Buongiorno e pace del Signore a te. Oggi martedì 8 febbraio 2022 siamo ancora qui riuniti per poter adorare e benedire il nome del Signore, poter ascoltare la sua parola e poter comprendere anche oggi qual è il proposito di Dio per la mia e per la tua vita. Quindi passo subito alla lettura del versetto di oggi che dice proprio così. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, Salmo 18, versetto 2. Il Dio di ogni grazia vi fortificherà stabilmente, prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 10. Il titolo di questa meditazione biblica è questo, risorse per il credente. Abbiamo tutti bisogno di stabilità e di punti di riferimento per la nostra vita, ma le circostanze possono improvvisamente cambiare facendoci sentire disorientati. La malattia, i lutti, la perdita del lavoro possono darci l'impressione di non avere più i punti di appoggio sui quali contavamo ed ecco che allora ci sembra che tutto crolle. Possiamo tuttavia stare salde grazie ad alcune risorse sempre disponibili. Ad esempio la bontà di Dio che provvede a tutte le nostre necessità, non solo ad alcune, ma provvede a tutte le nostre necessità. Non dipende dai nostri meriti e né dalle circostanze della vita, perché la tua bontà, oh Signore, dura per sempre. Salmo 138, verso 8. La Bibbia, che è come un'ancora che ci impedisce di andare alla deriva. La parola di Dio trasmette sicurezza e stabilità a tutti quelli che ripongono la loro fiducia in Lui. La parola di Dio incoraggia, sostiene, dà uno scopo alla vita di ciascuno di noi, facendo conoscere non una religione, ma una persona, Gesù, il Figlio di Dio. E poi abbiamo Gesù Cristo. Egli non è il Cristo morto rappresentato nei crocifissi. Quasi duemila anni fa è stato inchiodato sulla croce per salvarci dal giudizio divino, ma poi è risuscitato e vive eternamente. Vangelo di Matteo, capitolo 28, verso 7. Gesù è Dio sul quale chiunque crede in Lui può sempre contare. Egli vuole diventare la vostra forza, il vostro rifugio, il rifugio della vostra vita, il riparo del vostro cuore. Infatti Lui dice venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo. Attorno a noi tutto è effimero e scomparirà, ma Gesù è colui che dura per sempre. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, proprio come scritto nell'Epistola agli ebrei, capitolo 13, versetto oggi, versetto 8. Gesù non è cambiato, è lo stesso. E come ti ama prima, ti amava prima, ti ama anche ora. Come ti amava quando ancora non eri neanche nato, ti ama ancora ad ora. È ancora di più ora, perché ti conosce personalmente, sa le tue difficoltà, sa i tuoi limiti e ancora oggi ti rivolge una parola, una parola per te. Venite a me, vai a Gesù. Voi tutti che siete stanchi, aggravati, travagliati, oppressi, e io, dice il Signore, io vi darò riposo. E poi dirà più avanti, darò riposo alle anime vostre. Non un riposo fisico, ma un riposo dell'anima. Stai cercando il riposo? Vai a Gesù. Stai cercando la pace? Vai a Gesù. Stai cercando qualcosa di cui hai bisogno? Vai a Gesù. E che Dio ti benedica e ti provveda ogni necessità. Pace a te. A te. A te. A te. Grazie.